Cosa sai dell'energia? Quest'oggi parleremo del metano, dell'acqua e della geotermia. Faccio l'esperimento della geotermia. Dopo le riprese dobbiamo fare una piccola ricreazione. Io faccio l'esperimento del metano. Vedere la curiosità crescente nei loro occhi è stata un po' una soddisfazione. Per me è stata un'esperienza unica, incredibile. È stato qualcosa di meraviglioso. Perché è stato molto emozionante e abbiamo capito tantissime cose. Bello, 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 da ripetere. È stata una bella esperienza. Speriamo che ciò che è stato seminato possa produrre in questi piccoli, che saranno grandi, dei comportamenti corretti. Sono stati entusiasti dal primo giorno fino all'ultimo. Ed è stato il progetto più emozionante che abbiamo fatto da quando è iniziata la scuola. E una delle criticità che posso evidenziare è proprio questa. Ampliare la parte pratica, quindi la parte dove vengono effettuati esperimenti, ma anche la parte teatrale, perché è la parte in cui si sono divertiti di più. Di capire cosa possono fare queste tre energie. Mi sarebbe piaciuto portare i bambini a vedere i luoghi dell'energia. I bambini si sono divertiti, ma anche noi in realtà. È emozionante e bellissima. I bambini hanno accolto questa esperienza in modo positivo. Io spero che il prossimo anno sceglieranno di nuovo noi, perché è stata un'esperienza bellissima. Grazie. Grazie.